Eccoci, è sabato e vorrei partire in realtà da un qualcosa di positivo, non come il mio tampone dell'altro giorno, ma qualcosa di positivo, nel senso che oggi finalmente inizia il mondiale vero e proprio, per quanto riguarda il mondiale inizia oggi, non con i gironi e tutte quelle robe lì, è una sorta di antipasto, invece oggi finalmente iniziano i campionati del mondo, fase eliminazione diretta, ci sono già delle partite bellissime, c'è un tabellone bellissimo che permette ancora il sogno in finale, Ronaldo contro Messi, difficile, molto difficile, probabilmente non accadrà, ma io ho ancora una piccola speranza e voglio assolutamente credere in quello che potrebbe essere il mondiale dei mondiali, a questo punto come cantavano una volta, a parte Ibra non manca nessuno, in realtà ne mancano, anche perché non sono mancate nemmeno le sorprese Belgio e Germania eliminate, insomma, sono state anche delle squadre di rivelazione, quindi vediamo cosa succede, nessuna squadra ha chiuso il girone a punteggio pieno, anche questo è un dato di fatto e vediamo un attimo che cosa accadrà, oggi inizia il vero e proprio mondiale, sono gasatissimo perché adesso saranno veramente delle partite di fuoco, veramente di fuoco. E sempre l'atto sportivo, la Juventus Eiling Junior sono molto molto vicini a quello che dovrebbe essere il rinnovo, quindi molto molto bene per un ragazzo che ha fatto molto molto bene in quelle pochissime apparizioni che gli sono state concesse, però ha dato veramente l'impressione di poter lasciare il segno, quindi sono contento, avanti così, via così, questa è la nuova linea da seguire, diversa da quella che invece era stata la linea che stava seguendo Paratici negli ultimi anni di Juventus, anche ieri ne abbiamo parlato in merito alle intercettazioni, nel video di ieri trovate tutto. Allora, oggi io vorrei partire da una notizia ufficiale confermata da Juventus, cercare di spiegare anche perché è stata fatta questa cosa, ma faccio un po' fatica quindi poi vi racconterò, e una voce che sta circolando, quindi partiamo un attimino da quella che è stata la nota uscita ieri sera sull'uscita ufficiale della Juventus, Romeo Agresti ha twittato, ha approvato un nuovo bilancio, un progetto di bilancio di esercizio e un nuovo bilancio consolidato al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di 239 milioni, appunto al 30 giugno 2022, e 226 al 30 giugno 2021. Sono andato a recuperare il tweet precedente di Romeo che aveva pubblicato il 23 settembre 2022, e sempre con i numeri che aveva rilasciato Juventus, erano leggermente diversi, infatti al 30 giugno 2022 c'era una perdita di 254.3 milioni, e al giugno 2021 c'era una perdita di 209.9 milioni, quindi cosa significa? Che sono stati praticamente spostati 15 milioni di perdita da un esercizio a quell'altro, se fate i conti di differenza tra quelli che erano stati approvati a settembre, quelli che sono stati approvati ieri sera viene 15, e sono stati spostati 15 in più sulla perdita del 30 giugno 2021. Questo è stato fatto da Juventus, però a me questa cosa non rappresenta niente, non vuol dire niente. Quindi cosa ho fatto? Ho chiesto un po' aiuto a qualcuno che potesse masticarne un po' di più in materia, e su Telegram Stefano mi ha risposto e ovviamente mi ha detto prendila con le pinze perché io sto ancora studiando, però ovviamente voglio farvi leggere anche la sua testimonianza che secondo me è molto molto interessante. Infatti in questo momento sono contento perché il popolo Juventus, che ha magari delle facoltà, delle conoscenze maggiori di me in determinati ambiti, sta rispondendo presente, sta cercando di contribuire a quella che è la ricostruzione più fedele di tutto. E mi dice, ciao Luca, ho visto il tuo post su Twitter riguardo al bilancio. Oltre a ciò che ti ha già detto quel ragazzo nei commenti, che mi aveva lasciato un altro commento, aggiungo che il patrimonio netto è rimasto invariato, i soldi in cassa e liquidità sono rimasti invariati e l'indebitamento finanziario netto è rimasto lo stesso. Indi per cui non c'è alcun motivo per cui la Juventus non potesse iscriversi al campionato. Di questo ero abbastanza tranquillo anche senza queste cose qui. E ribadisco, se poi verrà fuori che, allora rischeremo le processioni in Serbi. Ad oggi non c'è motivo per crederlo. Il documento è stato fatto ad hoc con i vari bilanci riesposti, rifatti anche con i bilanci Proforma, quindi con i calcoli che avrebbe voluto la Consob, nei quali tra l'altro il rosso del 21-22 sarebbe 193 milioni e quello del 20-21, 233 e 145, quello del 19-20. Questi Proforma li trovi a pagina 25-26-27, ovviamente del comunicato che ha rilasciato a live del PDF di 51 pagine rilasciato da Juve ieri sera, che io non vi mostro perché ragazzi sarebbe una noia mortale e io non ci capisco niente. Io ho bisogno appunto di supporto per capire qual è la ciccia grossa e di che cosa si sta parlando. Quindi ringrazio Stefano e anzi, se invece c'è qualcuno che ha lo stesso grado di preparazione, che ha studiato queste cose, sa di cosa si sta parlando e nota delle imprecisioni o vuole aggiungere qualcosa, beh, i commenti sono sempre aperti qui sotto e mi fate una grande cortesia, fate una grande cortesia a me e fate una grande cortesia a tutta la community, a tutto il popolo che in questo momento si ritrova un po' sballottato qua e là da questo continuo via vai di informazioni. Quindi c'è anche il comunicato sul sito della Juve, potete andarvelo a leggere, ripeto, sono 51 pagine che non sto a mostrarvi proprio perché sono calcoli, sono bilanci, sono tabelle, è scritto in politichesi, quindi datevelo a vedere se volete e soprattutto se ne masticate, comunque questa dovrebbe essere la spiegazione. Da pagina 35 a pagina 40 invece come puoi leggere ci sono una serie di numeri e calcoli in cui vengono mostrati i calcoli giusti secondo Consob e quindi come vengono rispalmati nei tre esercizi 19-20, 20-21 e 21-22 le famose quattro mensilità, in realtà tre, perché ad una hanno rinunciato, di stipendi che sono state posticipate e le plusvalenze che sono state indagate, le operazioni incrociate che trovi a pagina 33 del paragrafo in basso. Allora, faccio un passo indietro, perché anche ieri è circolata la confessione di Paolo Di Bala che agli inquirenti avrebbe detto cose clamorose, veramente clamorose, cose così clamorose che Juventus aveva scritto all'interno del comunicato quando si era deciso di far rinunciare agli stipendi, ai calciatori e di posticipare il pagamento, cose veramente clamorose che non hanno spostato niente perché erano già cose note e ha seguito la linea guida di Juventus. Poi sono uscite le famose intercettazioni di Chiellini sul gruppo Whatsapp in cui non c'è scritto niente. Le famose intercettazioni di Chiellini sul gruppo Whatsapp che veramente mettono in serio pericolo la Juventus. In serio, serio pericolo la Juventus. Per quanto riguarda gli stipendi, che torno a dire, sono la cosa che mi preoccupa di più in assoluto perché da lì possono arrivare dei punti di penalizzazione. La retrocessione in Serie B arriva se la Juventus non era in grado di iscriversi al campionato per via di pochi soldi a disposizione per iscrizione, cosa che Stefano ci dice, no. Anche in questo caso Juventus aveva la possibilità. Per quanto riguarda gli stipendi, io qua faccio un passo indietro, ragazzi. Io qua non ho idea intanto di come funzioni questo mondo. Non ho idea, sono ignorante. E secondo me non so cosa è stato fatto effettivamente perché se è stata fatta una manovra strana dietro lo sa solo chi l'ha fatta. E per questo stanno cercando di capire se è stata fatta. E invece ci sono già... Abbiamo già tirato le somme, il processo va ancora iniziare, ma abbiamo già l'esito, sappiamo già cosa dovrebbe fare la Juventus. Quindi ovviamente la retrocessione in Serie B che non è contemplata da questa cosa. Molto bene, molto bene. Però appunto Consob voleva delle modifiche al bilancio. Juventus le ha redatte. Ieri sera ha approvato questo nuovo bilancio e l'ha fatto appunto senza Agnelli, senza Nedved, senza Arrivabene e tutto il CDA che si è dimesso perché non poteva approvare questo bilancio in precedenza. Quindi questa è stata la volontà di Juventus di andare a non fare più muro contro muro con la Consob ma di fare un passo avanti e rivedere tutto il bilancio che era stato redatto a settembre 2022. Quindi questa volontà di Juventus di cercare di sistemare con Consob. Questo per dirti che sono stati rifatti ad hoc tutti i calcoli secondo ciò che vuole la Consob. Ed è stato possibile farlo perché essendo valori stimati senza principi contabili a cui far riferimento per il caso degli stipendi, per il periodo atipico in cui ci trovavamo mentre per il caso plus valenza operazioni incrociate che è pur sempre un valore soggettivo e se sono modificabili anche in futuri esercizi. Quindi la Juventus a quanto pare ma ribadisco io di queste cose non ne so niente ma a quanto pare lo poteva fare anche perché se l'ha fatto probabilmente perché lo poteva fare ma la sostanza in sé non cambia niente ci impediva di iscriverci correttamente al campionato quindi si può stare tranquilli. Chiedo scusa per i papiri se hai bisogno di altre delucidazioni per quanto mi è possibile sto ancora studiando l'università sono qua e poi chiude con un ringraziamento per l'impegno e la creazione dei video invece io ringrazio te Stefano per esserti proposto ovviamente ho chiesto la sua disponibilità a mostrare i messaggi e ho detto certo quindi l'ho ringraziato e quindi questo è quindi grazie ancora pubblicamente Stefano per questa precisazione perché ribadisco per me è difficile che non ho avuto una formazione a livello economico a livello finanziario a livello di bilanci ho fatto due mesi di economia e commercio e poi ho capito che non faceva per me e ho cambiato università quando era ora a 19 anni quindi per farvi capire la mia situazione non fa per me questa roba e quindi sono davvero contento che invece ci sia qualcuno che ne mastica e che sia disposto a spiegarlo quindi questa dovrebbe essere la situazione concludo dicendo che Juventus anzi lato Juventus stanno circolando alcune voci che però rimangono voci e vedremo se saranno confermate oppure no secondo cui Elkan starebbe pensando di cedere Juventus e quindi di salutare dopo più di 100 anni appunto la squadra che non sarebbe più proprietà degli agnelli ma andrebbe a cambiare proprietà si starebbero cercando investitori magari un fondo un fondo di maggioranza quindi vediamo un attimo cosa succede però questo chiacchiericcio per il momento teniamolo monitorato perché magari potrebbe anche contenere un fondo di verità chissà ad ogni modo Juventus si sta muovendo e si sta muovendo più Juventus rispetto a quello che sta venendo fuori perché io ieri sera facevo una domanda e vi dicevo ma a livello di notizie confermate c'è cose effettivamente confermate cose rilevanti dalle dimissioni del CDA di lunedì sera che cosa è venuto fuori perché la risposta è niente se la gente mi risponde è le intercettazioni ma le intercettazioni sono o vecchie di un anno o irrilevanti non contenenti prove cioè cosa è venuto fuori da lunedì non è cambiato niente sono cambiate due cose due note ufficiali Juventus una in cui affermano che proveranno a difendersi a tutelarsi in tutte le sedi e l'altra ieri sera in cui riapprovano il bilancio con il CDA con il CDA nuovo cercando di rincontro a Consob e se vogliamo ci sono state le dichiarazioni di Gravina Figgi C che dice per il momento non c'è niente chiesta plus valenze è già stata fatta stati tutti assolti se verrà fuori qualcosa vediamo e potrebbe coinvolgere anche altri ribadisco la cosa che mi preoccupa sono gli stipendi e probabilmente Juve ha fatto questa manovra di ieri sera proprio per far capire a Consob che si sono mossi nel rispetto della legge se poi hanno pagato in nero se poi di 4 mensilità ne hanno pagata 1 e 3 se le sono intascate a nero se poi non hanno ancora pagato se poi c'è una carta a Ronaldo con scritto non ne ho idea se poi se poi se poi se verranno fuori queste cose se verranno confermate queste cose allora è giusto che paghino perché hanno fatto una manovra scorretta però ad oggi non è ancora venuto fuori niente sulle plusvalenze aspettiamo che rifacciano il processo dove siamo stati assolti aspettiamo che rifacciano il processo se verrà fuori qualcosa verremo puniti lato stipendi aspettiamo che inizi il processo aspettiamo che ci siano tutte le prove se uscirà qualcosa allora pagheremo però adesso sono tutti se ad oggi non si è mosso niente se non Juventus che cerca di far capire che si è mossa sempre nei limiti della legalità e ribadisco se poi cambierà qualcosa allora saremo pronti a pagare quello che c'era a pagare dato che non avremo seguito il regolamento alla lettera però sono tutti se 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 se